mi rovini mi rovini tutto il fico è facile dentro qua c'è dentro tutti i semini vediamo se vengono scendi adesso salta fuori le avevo detto di mettere un e ma c'è bastava un pezzetto di quelli per portarli da l'aere si perché così è impossibile sei sicuro? no 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 no